Benvenuti al pubblico di Piccole Magazine, abbiamo qua Apollonia Queen Age Che figa, una ragazza ad altri tempi, una ragazza all'avanguardia, un po' MILF Allora Apollonia stasera siamo qua, tu lo sai benissimo, al Nautilus Club di Milano per il compleanno di nostra sorella, di Sebil Garcia, a cui facciamo ancora tanti tanti auguri Auguri Sebil Garcia, ti vogliamo bene Ti vogliamo tanto tanto bene, allora Apollonia, un commento, cosa ti è piaciuto di più dello show? C'è stato qualche artista che ti è rimasta più impressa? Amore, tutte, perché ognuno è nel proprio adatto veramente tanto Allora le mie preferite, cioè sembra una leccata ma non lo è Mia sorella, che ho qua di fianco, che io adoro Grazie, grazie Che ha fatto un'esibizione molto particolare, perché non l'avevo mai vista esibirsi in versione maschile Ho amato, ma comunque un po' tutte, devo dire, mi sono piaciute veramente, tutte bravissime Sì, abbiamo avuto sia dalla drag queen, alla trans queen, all'androgenia di Sandra Shaw Abbiamo avuto pezzi di ogni genere A Polonia ci ha stupito con un pezzo dance potente, con le sue curve pazzesche Ed è stata favolosa Vuoi dire qualcosa in particolare al pubblico di piccole magazine, a Sebil, che ci ascolta? Allora, al pubblico dico seguiteci, seguite sempre Trav Company, TV Magazine, perché Tenetevi aggiornati sempre sulla pagina, perché gli eventi, le serate, top E poi seguitemi sulla mia pagina Facebook, ciao Ecco, seguite molto a Polonia Queen Age, ragazzi, che è un artista top Ecco, seguite molto a Polonia Queen Age, ragazzi, 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 ragazzi